Il sabato 27 novembre ci sarà la venticinquesima edizione della giornata nazionale della colletta alimentare. Una giornata di carità e di solidarietà che amo definire nazional popolare, perché ormai è conosciuta e alla quale tutti possiamo partecipare. Partecipare attraverso un piccolo gesto concreto, ma di una importanza e di una rilevanza enorme. Concreto perché si tratta di fare una spesa comprando dei prodotti che vi verranno indicati attraverso un volantino che vi verrà consegnato dai volontari riconoscibili dalle pettorine gialle. Ma soprattutto di una importanza enorme perché questa spesa ci permetterà di aiutare chi aiuta, cioè di aiutare le numerose associazioni di carità presenti sul nostro territorio che quotidianamente abbracciano il bisogno e aiutano le persone in difficoltà. Ma la colletta non è soltanto una giornata di carità e di solidarietà, ma anche un'occasione grande per educarci ad un'esigenza che in questi due anni abbiamo in qualche modo scoperto essere ancora più importante e urgente. Perché mai come in questi due anni abbiamo capito che dall'emergenza sanitaria occorre favorire nella nostra società una dimensione di condivisione. Una condivisione alla quale ci si educa attraverso gesti come quello della colletta. Perché come ci ricordava il Papa, nessuno si può salvare da soli. Vi aspettiamo numerosi e generosi. Grazie a tutti!